Pronto il pesce, vediamo, vediamo, seguiamo, 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 vediamo, disboschiamo, staniamolo, come si vede il pesce si è incrostato di sale, fate attenzione perchè il sale è bollentissimo, questo siccome era molto grosso è stato più di mezz'ora, a 210 gradi, però una miscura normale potrebbe stare anche 20 minuti, a capa tosta. La difficoltà è dovuta pure alla grandezza del pesce che insomma è poco giostabile, giostabile, il pesce grosso è più buono, c'è più carne, quasi un chilo, eh? Giusto? Giusto? Puoi parlare, eh? Giusto. Giusto. ha detto Gioce, l'uomo del mondo ha detto Gioce. Ta 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 ta. Che si fa? mette nel piatto si prega si prega cosa è bigliano cosa ci vuole il suo adatto speriamo di no e la parte di sotto non è facile vedi vedi l'ingegno si pulisce un po di sale che sta dall'altro lato sembra fatto molto bene la testa è mia la c'è il meglio vabbè tanto con la pelle si stacca anche il sale ok lo vogliamo mettere sul sul piatto mio che vuole il piatto mio operazioni preliminari bene buon appetito bene buon appetito